Ragazzi eccoci nel mio canale, oggi siamo ritornati su questo gioco che è abbastanza bello E' bellissimo e... un attimo eh Ok quindi eccoci qua, dai non voglio Raffajem Giochiamo comunque Ragazzi, fa schifo vero? Ragazzi comunque voglio fare una serie di giochi horror, io la chiamerò... mi sto facendo la cacca addosso per la paura, dai scherzavo No, la chiamerò... sto morendo dalla paura, tipo sto morendo dalla paura episodio 1 No, fa schifo tre giochi horror Sto morendo dalla paura episodio 1 Sto morendo dalla paura, cosa devo fare? E io ho i giochi, io prenderò i giochi che mi dite voi giù nei commenti, quindi decidete voi i giochi, capito? Loro i voi, tu sei voi giusto? Si E lì Cartoon che posso servire? Io li farò tutti, comunque se voi me ne dite due in un video, io prima ne farò uno e poi farò l'altro naturalmente Saranno naturalmente giochi horror, cioè fatti bene, non come Evil Nun, Mr. Meat, quelle cacchette là Ovvio tipo Five Nights at Freddy's, One Nights at Freddy's, One Nights at Flampy's, e One Nights at the Flampy's E' un gioco horror, è un gioco horror, bello, è bello, è un gioco horror, è un gioco horror, Lori, non posso dire nient'altro I gioco horror sono belli Allora ragazzi, io qua sto parlando, non mi sto concentrato sulla partita, ma noi dobbiamo vincere, questo è il nostro obiettivo Ok siamo in parità Vai prendiamo questo Hop Hoppa Lina, tornate tutti indietro, tutti devono tornare indietro immediatamente Se morite così Ma io dico, ma se morite così, ma come fate? Già, ecco come fanno Sono morto io come sono morti d'oro, sono morto ugualmente Ma perché tu ti con Nita, che Nita è uno dei personaggi meno forti di tutto l'universo? Io ce l'ho perché lo dovevo provare perché è proprio E questo è il gioco Sì, è viva, ho perso, chissà come mai, probabilmente perché Nita fa schifo a giocare O probabilmente perché io odio Raffagemme Ci sono tanti motivi Ecco Bene Ma io direi di farci un'altra partitina purtroppo da Raffagemme Che è l'unico Supercell, supercell Cioè tutti i giochi che fai dopo due secondi Fanno schifo a tutti Cioè io ho detto che amavo Clash of Clans, adesso non ci gioco più M'ha annoiato E questo uguale a Brutaspe, se no non l'avrei disinstallato Comunque Ditemi voi nei commenti i giochi che volete Quindi mi raccomando Tutti i horror Vanno bene per qualsiasi tipo Pagamento, senza pagamento Io vedrò quello che posso fare E comunque Vabbè Allora Noi dobbiamo vincere Non dobbiamo killare la gente Noi dobbiamo prendere le cose Cioè dobbiamo pure killare la gente Però Soprattutto Oh ma sono scarsissimi sti qua Va, prendiamo tutto Perfetto Squadra blu contro la rovescia Se siete intelligenti Andate indietro No Ce ne abbiamo abbastanza di punti energia Dovete proteggere Basta No se muori Non puoi morire così Ah Che vittoria Che vittoria Proprio meritata direi Ecco ragazzi Questa è una vittoria meritata Abbiamo qua una cassetta Dove non possiamo trovare niente Non troviamo niente Che novità Che ogni tanto mi chiedo Ho sbloccato la storia Sì Niente Pocio Sì Evviva Cioè tra tutti i brawler che esistono Proprio lui mi dovevano dare Cioè manco lo uso Ti pare che mi danno il leggendario Ti pare che mi danno il leggendario Un attimo Non si può uscire Ragazzi Faccio sta partita E noi ci vediamo Tra poco Ragazzi Partita vinta E adesso Finalmente Sopravvivenza Finalmente Finalmente Sopravvivenza E questo video finisce qui Ragazzi Ciao